L'oncologia è una branca medica in continua evoluzione. Ogni anno ci sono novità che meritano tutta l'attenzione degli specialisti che hanno il dovere di aggiornarsi per rendere un servizio completo ed efficace per i pazienti. Deve finire questo continuo pellegrinaggio verso le strutture del centro e del nord del nostro paese e quindi siamo noi che abbiamo il dovere di portare tutte le novità in Calabria. Devo dire che siamo fortunati in quanto riusciamo ad avere tutti i trattamenti migliori e quindi non c'è nessuna differenza fra nord e sud. Oggi ci sono dei farmaci specifici per ogni forma di tumore quindi si capisce lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare nel fare la diagnosi più corretta possibile dal punto di vista anche della biologia molecolare. E in Calabria anche su questo stiamo lavorando molto. Un grande aiuto nella lotta ai tumori viene dall'immunoterapia. Oggi è il cavallo di battaglia di tutta la ricerca in oncologia. E' quello che sta cambiando proprio il paradigma. Mentre una volta si faceva una cura per la forma di tumore oggi ci sono i cosiddetti farmaci agnostici che vanno a curare soprattutto in base alla mutazione biologica che è presente nel tumore. Per cui è capace che un farmaco possa essere attivissimo in tante forme di tumore. E gli immunoterapici rappresentano una famiglia appartenente a questa categoria. Dal workshop che si è svolto a Paola in cui si è dibattuto sui temi più attuali in oncologia è emerso che le patologie più importanti sono il tumore della mammella, quello del colon retto indeciso aumento, il tumore della prostata, il melanoma. Lo sviluppo farmacologico ci sta dando veramente grossi risultati e soprattutto grosse speranze per un futuro migliore per i pazienti oncologici. Sono l'ingresso su cui noi tu sai benissimo che lavoriamo.